Doppio cefallo di Manu, di cefallo di Conte. Qualcuno sta arrivando alla fine della carriera, quindi veramente, visto che la nostra carriera dura 10-15 anni, cerchiamo di vincere il più possibile perché abbiamo una grande squadra. Pensate a Sotti e Donatori l'anno prossimo, come vi sentirete? Ora ogni anno perdiamo qualche pezzo, il gruppo storico è duro da rimpiazzare. Ma è una dedica? Dopo due minuti, qui se ne sono passati altri dieci, siamo al dodicesimo, Tassotti, Maldini ed Erete, 2-0. A Capello, una condotta di gara, non dico prudente, ma un pochino meno aggressiva rispetto... Il Lidl manda in campo il super baby, Paolo Maldini, 16 anni, quarto dei sei figli della nidiata di Cesare Maldini. Rivera, che con Cesare ha giocato... Quinto il mafio di ripresa il pareggio, è proprio Massaro che mette in movimento Donatori, il quale imbecca Maldini, che si gira e tira, togliendo nettamente di sorpresa Palluca, e vedete... De Ascentis, buono stop, entra in aria Maldini. Implacabile Paolo Maldini. Si è rammarica però De Ascentis, mentre l'Inter perde 1-0 a Genova, gol di Montenegna. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.